Tre Pegaso della regione toscana per il ritrovamento del piccolo Nicola, il bambino di 21 mesi sparito nei boschi del Mugello dove ha trascorso due notti in totale circa 30 ore da solo. La massima onorificenza regionale è stata decisa dalla Giunta e consegnata dal presidente Eugenio Gianni al giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso, che ha sentito per primo il lamento del bambino mentre era fermo su un sentiero e che ha dato l'allarme decisivo, al comandante Danilo Ciccarelli, che è sceso nella scarpata a recuperare Nicola, e al sindaco di Palazzuolo sul Segno, Giampiero Filippo Moschetti, in rappresentanza di tutti i volontari che hanno preso parte alle ricerche. Noi abbiamo voluto subito consegnare il Pegaso, il segno di riconoscimento e di distinzione della regione toscana al sindaco perché è rappresentante di una comunità che si è proiettata subito a dare una mano, a gettarsi nei boschi pur di ritrovare il bambino. Dall'altra all'uomo dell'arma dei carabinieri che simboleggia un po' tutto quello che è l'arma in Italia, che nella scarpata appena c'è stata una possibilità ci si è buttato subito anche a rischio della sua capacità diciamo di muoversi in un luogo così imperdo. Al giornalista che ha avuto l'intuizione di sentire le frasche sono tutte e tre simboli dell'Italia, della Toscana che amiamo e che vogliamo. Grande l'emozione per il comandante dei carabinieri Cicarelli quando ha raggiunto Nicola nella fitta Boscaglia. La prima cosa che ho fatto io ho sentito subito la temperatura perché sull'Appennino la sera fa freddo e l'ho trovato più caldo di me ecco e poi io ho fatto una constatazione così visiva di palpazione e non ho riscontrato fratture se non qualche graffio riconducibile ai rovi del bosco e un piccolo bernuccolino che aveva sulla testa ma niente di importante per quello che ho deciso anche di riportarlo sulla strada con molta difficoltà. E la prima parola del bambino? No incontro non è venuto perché era spaventato però appena mi ha visto mi ha detto solo mamma ecco mamma e si è aggrappato al collo e poi l'ho riportato sulla strada. Una grande emozione collettiva a Palazzuolo sul Segno dove per un giorno e mezzo tutti si sono fermati per cercare questo bambino che vive con la famiglia in una zona isolata in mezzo alla natura. Un dispiegamento di 500 persone tra forze dell'ordine, volontari e cittadini. Ma c'era il prete, c'era il macellaio, c'era il proprietario del pub, c'era il meccanico, c'era tutta Palazzuolo, non solo tutta Palazzuolo, c'era Marradi, c'era Firenzuola, c'era tutto l'Alto Munger e tutta la Toscana. C'era un cane molecolare venuto dalle Marche, è stata una cosa molto importante.